bene ok, qui stiamo costruendo ok è un porto spaziale automatizzato mentre conducevamo la nostra ricognizione su Medage II, la BAMTA ha individuato i resti di un porto spaziale in orbita automatizzato è vecchio di almeno un migliaio d'anni possiamo dire e sembra che sia stato colpito da un pesante sbarramento di missili ma una dei suoi porti si, diciamo è ancora in perfette conduzioni insomma per funzionare il nostro ufficiale scientifico è confidente che l'energia può essere ri-introdotta su questo porto ma sarà quindi, diciamo, una spesa, diciamo non una minima interessante situation log situation log ah, eccolo dobbiamo recuperare lo scienziato è inferiore a quello della BAMTA com'è possibile? ah, perché se ne sta andando no, ricerchiamo il progetto dopodiché mi vai qua mi vai qua poi mi ritorni qua e per ultimo questo questo ha fatto questi li abbiamo presi potremmo fare uno spazioporto però se dopo li unisco adesso vedo ok qui ci siamo stia per arrivare questo tra un po' lo togliamo 87 83 83 64 ho spazio per 18 punti potrei fare una piccola flotta magari tanto per di corvette eeeh questo 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 bacanetta ok ok la la ifalx vedo che ha molta energia 27 Beh si è tutto potenziato Danneggia gli scudi Grande danneggiamento degli scudi Ah 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 giusto 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 No direi di mettere Nurank come rally point Punto di raduno Adesso Midra lo togliamo Mettiamo Nurank Ok Dovrebbero muoversi Dunque il nostro ufficiale scientifico Gipassim Ha con successo riattivato l'energia in questa Arsenale Ecco shipyard Arsenale navale automatizzato Il centro di produzione ha incominciato immediatamente A riprendere la costruzione dove era stata interrotta Utilizzando i materiali che ha a portata di mano Per costruire una fregata avanzata di sconosciuta origine Sfortunatamente Si è rotta Dopo aver Si è rotta Si Oltre ogni riparazione Abbiamo inviato una squadra Sulla nuova nave Per poterla Inserire nella nostra flotta Eccellente direi Non so se possiamo vederla Se c'è oppure no Si C'è Fantastico Interessante devo dire E' una F79 Alla raggi laser Combat speed 1.3 Danni da 14.47 Armatura 20 Ok Ottimo direi Passiva Bene Anche tutti aggiungi Era su Nuranka Vediamo che strada fai Perfetto Come ti chiami? La Dark Wanderer Mmm Ok Questa Si unisce con Hanno dichiarato Che i Quicks Lufran Come loro rivali Che sono i nostri Alleati Se non ricordo male Sono entrati In un patto Di un'aggressione Questi comunque Erano già alleati Ok E i 48 49 218 218 218 Mituar Questi chi sono? Ok 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 Questo c'è Questi si stanno muovendo Questa non so se riuscirà a entrare in combattimento Andiamo con la civica Amministrazione galattica E se non sbaglio adesso su Irutile possiamo sbloccare questo dannatissimo posto Ok Ok Qui stiamo andando bene Ancora uno e finiamo Debral A quanto siamo di popolazione? 56 del nostro impero Allora un totale di 80 Ottimo gli scudi E' quello che voleva Vediamo Questo per produrre Questo aumenta La capacità La capacità insomma La capacità insomma Di potenziamento della flotta Un disruptore O come si dica Non lo so Aioni Questo per i danni Andiamo Un sistema di supporto Intercommesso Intercommesso Flotta Mitra Posso farti avanzare 33 Ottimo Eeeh Qui stiamo arrivando Qui stiamo arrivando Qui stiamo arrivando Ok Ancora due mesi ci siamo Dunque volevo vedere il retail Eccolo qua che sta arrivando 37 di cippo per un bonus di 13% Ancora quattordici mesi 179 179 Allora tu Potresti incominciarmi a fare Eeeh Vedo che però stiamo scendendo Di crediti energetici Eh me li mangiano tutti questi Che fanno gli spostamenti Ci sono inferiori? Interessante Inferiori Inferiori Allora l'ausa Chiediamo Un po' di crediti energetici No Per un po' di minerali Vediamo Vediamo l'oro Allora vi do un po' di minerali 91 per... No? Vabbè Vabbè Niente commercio Quindi con voi Oh Finalmente I bombardieri Questo mi servirebbe Bombardieri Bombardieri Quindi dovremmo averceli Non mi ricordo se è questo o questa E' questa E' questa Scout Eeeh Danno 1 o 2 Lignaro al 50% dell'armatura più il 100% di danno agli spenerazioni degli scuri 70 All point 5 Evasione 20 Vediamo di questo Ah ok Mi servirebbe più potere Beh, se gli metto questo Più 5 Vabbè Teniamoci il bombardiere Per adesso E gli scout Eeeh Ta 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 Qui ci siamo quasi 27 di unità Eeeh 3 E' dentro un po' Qui 2 Qui 6 Quello 12 Mamma mia Questo Deve andare Qua Questi si stanno muovendo 218 Per il momento 218 Eeeh Se solo si muovessero E adesso chiudo Ah Ah Questi stavano ancora qui Bravi, si Questo e questo Si uniscono Ok E' morto qualcuno E' morto qualcuno Il governatore di Iruityl Vediamo Iruityl mi produce 27 E' morto qualcuno E' morto qualcuno Ok Ok Army Ship Spaceport Mmm Questo non sarebbe male Beren Questa per l'armata Questa per l'armata Che potrei mettere su Ehm Debral Se non c'è qualcuno Su Debral C'è lui No su Debral Non c'è nessuno Vedo Ok Però non so Quanto mi duri su Debral Alla fine Ehm Garison health Army cost Army build cost Ehm Ingegneria Ingegneria fisica e società Questo non sarebbe male Dove potrei metterlo? Ingegneria fisica e società Eh Su Baganet Ottimo Gun Questo mi dovrebbe dare un piccolo boost Sì Se potessi mettere qualcuno Su Eruity Ma non ho nessuno di interessante Ok Ok Questo potrei metterlo Su Mitra Bunjigor Ehm Space Model Il Potrei metterlo su Mitra questo Per oggi è già G-Kir 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 Che potrei spostarlo Su Togta Dove abbiamo molto da ripulire Ehm Ehm Ok E mettiamo sul Mitra Quanto stiamo? 12 su 16 Sì Posso permettermelo Ehm Un ufficiale Della flotta in ritiro Di servizio Questo 20 Questo 20 10 Mettiamo questo giovane Gambitan Ok Ehm Volendo potrei spostare qui Una vamposa di frontiera Ma C'è un bel po' di risorse Dove dire Ok Ci siamo qua Ok Si stanno muovendo Ancora un po' Ah Qui come va la difesa Ci siamo tutti direi Ehm Si Ta 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 Non so quanto mi convenga Così vicino Alla linea del fronte Ok Diminuiamo i costi Mettiamogli qualcuno con l'attacco Ok Tra un po' entriamo nel 2300 Wow E si uniscono 591 Una piccola flotta Da combattimento 14 58 53 Ancora 4 mesi Su Ci siamo quasi Questa Questa e questa Si uniscono E formano un'unica flotta Veloci Veloci Ok Una piccola flotta Da combattimento Da 776 Ci mettiamo un ammiraglio Ehm Ship Combat speed Combat speed Veloce come il vento questo è Questa Vak Gar Dim Ocor Andiamo di questo Ok Vedo che abbiamo una tradizione Ci penseremo su cosa mettere adesso Questa è un'unica flotta In una carta Questa è un'unica flotta In una carta